La partita è sofferta, sempre punto a punto, in equilibrio tutto il match, poi nell'ultimo tempo siamo riuscite ad allungare. Sicuramente il Rapallo è un'ottima squadra, per noi era importante iniziare bene, iniziare con una tutoria, avremo modo di lavorare sugli errori fatti, perché comunque c'è tante cose da sistemare, però siamo soddisfatti comunque dell'andamento della partita perché abbiamo dimostrato comunque di creare, di giocare, le ragazze sono state brave, bisogna stare un po' più attente, ma sicuramente un buon avvio e un buon gusto.